E' sempre più importante curare la bellezza della casa Per poterla vendere al meglio Bisogna stare molto attenti nella scelta di un amministratore Cercheremo di aiutarvi a capire come sopravvivere nella giungla del condominio Buonasera, benvenuti a Obiettivo Condominio Come dice la sigla, cerchiamo di aiutarvi a sopravvivere nella giungla del condominio Tutte le domeniche alle 21.30 su Rete7 Ma anche su Rete7 e Sky Canale 825 Il mercoledì a mezzanotte e il sabato alle 20.30 Per cui orari per tutte le tasche per seguire sia condomini che inquini Quelli che sono le novità sul condominio Ma anche spiegare come per esempio faremo la prossima settimana Quali sono i segreti degli ascensori Invece questa sera parliamo di agevolazioni fiscali E conseguenti lavori che rientrano e quindi sono detraibili Lo facciamo con Nicola Rizzi, commercialista Massimo Panvino del geometra della ditta Renovare Daniela Molino e Samuele Obinu del Centro Isolamento Se volete fare delle domande o suggerirci degli argomenti per le prossime trasmissioni Lo potete fare scrivendoci a Obiettivo Condominio Chiocciola Libero.it Ringrazio Cronaca Qui come tutte le settimane Per l'annuncio che il venerdì pubblica su una grande iniziativa di Rete7 Cioè la decisione di dedicare dalle 20.30 alle 22.30 della domenica La serata della casa Quindi alle 20.30 casa a tutti i costi Dove facciamo vedere i più belli appartamenti del Piemonte E poi alle 21.30 questa trasmissione Obiettivo Condominio Un po' più tecnica, un po' più d'aiuto per i nostri amici condomini Tra l'altro da pochi giorni anche una nuova collaborazione tra Rete7 e Cronaca Qui Ha portato Obiettivo Condominio dalla televisione alla carta stampata Tutti i mercoledì mi onoro di firmare una rubrica che si chiama Obiettivo Condominio su Cronaca Qui Dove andiamo ad approfondire i temi che sono stati o verranno trattati Nella trasmissione televisiva Iniziamo allora Nicola Rizzi Tu che sei diventato il nostro commercialista di riferimento per le questioni fiscali Ci sono grandi novità per il 2017 In realtà anche per gli anni successivi Cominciamo a parlare di interventi di recupero del patrimonio edilizio Sì, preciso che questa norma qui ormai è stanziale Cioè non ha più una scadenza come lo è stato fino all'anno 2012 Perché questa disposizione di incentivazione delle spese Di interventi di natura condominiale e anche per singole unità immobiliari Nacque 15 anni fa, 18 anni fa ormai nel 1998 Poi con proroghe via discorrendo Ma nell'anno 2012 è diventata norma definitiva L'originario importo e percentuale del 36,48 per ogni unità immobiliare Perché il condominio per individuare l'ammontare della spesa Che origina la detrazione fiscale Deve moltiplicare ogni unità immobiliare per 48.000 Diventano cifre abbastanza elevate Si può fare Si può fare Si può spendere Però adesso non è più il 36 No, non è più il 36 ma è il 50% E non è più 48.000 per singola unità immobiliare Ma è il doppio 96.000 Questa era una disposizione provvisoria Che è stato oggetto di proroga fin dal giugno 2012 Quando è stata inserita la prima volta Quest'anno è prorogata con la legge di bilancio di fine anno Una volta si chiamava finanziari Adesso si chiama legge di bilancio O con altre denominazioni La novità consistente è che Relativamente ad alcune tipologie di spese di natura condominiale Quindi non sulla singola unità immobiliare La proroga è al 2021 E questo ben venga perché Quando si iniziava un intervento Oltre alle caratteristiche di criticità Tipiche, ordinarie C'era quello ma ce la faremo entro il termine Ce la faremo entro il termine In modo da usufruire completamente Della maggiorazione sia dell'importo che della detrazione Adesso finalmente l'obiettivo non è di guardare a 6 mesi A 8 mesi Sono 4 anni abbondanti E quindi questa paura ce la siamo tolta Cominciamo a vedere Nel dettaglio ci sono delle slide Soprattutto la 2 e la 3 Recupero patrimonio edilizio Così i nostri condomini a casa Possono ben vedere il riassunto Ecco se ce li mandate Eccolo qua In ordine al condominio Questo va fatto un chiarimento Tutte le spese Anche di manutenzione ordinaria Non così invece sulla singola unità immobiliare Quindi il condominio Volendo esagerare Anche se compra una lampadina Se è strutturale Quella tromba delle scale Certo però Entra poi in funzione Una circostanza di determinazione del beneficio Rispetto al costo Perché anche godere di qualcosa C'è una spesa passiva Che non deve mai superare Quello che è la montagna del beneficio stesso Mentre invece le singole unità immobiliari Solo gli interventi di natura straordinaria Bene, allora abbiamo visto 50% 10 anni Massimo Panvino Di rinnovare Voi fate tanti interventi Parliamo quelli detraibili del 50% Per esempio la tinteggiatura Della scala Ecco Intanto Dobbiamo sfatare il mito Che ci sono questi interventi Non costano così cari Poi col 50% Voglio dire alla fine È realistico È realistico Da quando c'è questo bonus fiscale Mi sembra che sia Si è aumentato un po' il lavoro Sì Abbastanza Ci sono parecchi condomini Che ci richiedono Appunto la decorazione delle scale La ristrutturazione Per beneficiare di questi bonus Ecco Rientra tutto Nel senso Non solo la tinta Ma La manutenzione del legno Del mancorrente Tutto quello che è Nella tomba delle scale Ecco Dalla ringhiera Che sia in ferro Che sia in legno Tutto quanto rientra Nel bonus Ecco Ecco Tanto Perché Essendo Un amministratore Tanto c'è la deformazione Professionale Voglio ricordare Che nella scala È tutto condominiale Tranne le porte Delle abitazioni Quello è una cosa Che viene tenuta Sempre a parte A parte Hai anche Giusto per far capire I nostri condomini Qualche esempio di costo Facciamo una casa Tipo Facciamo una casa Tipo Di cinque piani Due appartamenti per piano Sì Sempre Ti do una cifra indicativa Perché poi bisogna vedere Anche lo stato di conservazione Della casa Andiamo Intorno ai 4 5 mila euro Usando già materiali Buoni e di marca Ecco Quando parli di materiali Buoni e di marca Che cosa intendi? Nel senso che Se non usi quelli buoni Di marca Cosa succede? A parte cosa può succedere? Si scende Si può scendere Anche di costi Ecco Se uno vuole usare Qualcosa di buono È ovvio che va pagato Comunque E poi C'è il rischio Che dopo un anno Le prezzi Iniziano a sfogliare Ecco In questi 5 mila euro Sono compresi anche Il bancorrente Tutte le parti condominali Tutte le parti condominali Le finestre interne E la parte interna Delle finestre Quindi per capirci Cari condomini Insomma 10 alloggi 5 piani Una casa media Di Torino Vengono Mediamente Diciamo 500 euro Ad appartamento Che però 250 Li recuperiamo Nei 10 anni Quindi Comincia a diventare Interessante Più grandi novità Più grandi novità Ce le abbiamo Sulla riqualificazione Energetica Delle edifici Perché il governo Ha fatto un passo Ulteriore avanti Vero Nicola Ha aumentato Sensibilmente Le percentuali Portandole al 75 E all'80% Il governo Insomma Si rende conto Della necessità Di un risparmio energetico Che a sua volta Crea tutto Un seguito Di altri risparmi Si va Da una temperatura Da una Diminuzione di smog E via discorrendo Quindi C'è poi In termine generale Un ritorno Di questa Di questa Scontazione Fiscale Che il governo Concede E determinante L'incentivo Perché Rinunciarci Praticamente Come hai detto Prima tu C'è un ritorno Di tre quarti Sì Indubbiamente Spalmato in dieci anni Ma è un ritorno Effettivo Di tre quarti Se poi Noi consideriamo Che la ditta Che effettua Gli interventi A sua volta Ha un gravame Fiscale Quindi paga Delle imposte Verrebbe da dire Che qui lo Stato Si guadagna In tutti i termini Ecco perché Questa Ulteriore Aumento Di percentuale Al 70 E al 75 Percento Questa percentuale Varia Dipendentemente Io non sono pratico Perché faccio un mestiere Diverso Un'incidenza Del 25 Percento Della superficie Disperdente No Quindi qui Più voi A poi ce l'abbiamo In tecnici Della superficie E poi Un risparmio Almeno di qualità media Di determinate percentuali Con riferimento Al decreto ministeriale Del 26 giugno Non so dire Esattamente In concreto Cosa si intende Per involucro Qui Mi verrete In aiuto voi E lo direte Resta sempre La circostanza Dei tetti Da 100.000 A 60.000 Dipende sempre Dalla tipologia Dell'intervento Più è qualificato E più l'importo È adeguato E quindi possiamo arrivare A questi 75% Ma secondo me La grande novità Al di là di questo 10% In più È il fatto Che viene Certamente Prorogato Fino al 2021 Nei condomini E qui mi rivolgo Agli amici Del centro di isolamento Quante volte Avrete fatto Dei preventivi E poi L'iter condominiale Non è come un privato Che decide O meno Se mettersi doppi vetri Lo decide In un anno C'è tempo Per decidere L'iter condominiale Una volta Non c'è la maggioranza Un'altra volta Vogliono avere E l'anno passa E non si può Invece in questo caso Finalmente Gli amministratori Italiani Potranno dire Guardate Calma Tranquillità Vediamo Di che tipo Di intervento Sì Tanto Se non è quest'anno Abbiamo tempo Fino al 2021 Per farlo E non perdiamo Assolutamente Nullo Quindi Vediamo con Samuele Ovino Del centro di isolamento Già il nome Fa capire Quello Di cui vi occupate Normalmente I due più grandi Capisaldi Dell'isolamento Sono L'insufflaggio E i capoti Cominciamo a parlare Dell'insufflaggio Che cos'è Materiali utilizzati Come viene Applicato Ma soprattutto Quali casi Quali case Possono Utilizzarlo Sì Allora L'insufflaggio Consiste Nel Fondamentalmente Nel riempimento Dell'intercapedine Le case vecchie Dagli anni 50 Fino agli anni 2000 Sono state costruite Fondamentalmente Con una doppia Muratura Interna ed esterna Dove rimane Questo spazio vuoto Dove fondamentalmente C'è soltanto aria E negli ultimi anni Si è scoperto Che soprattutto Da quando c'è il cambio Del serramento Si crea Tanta umidità Quindi per Ovviare al problema Dell'umidità E del freddo Una delle alternative Per isolare E' una delle alternative È quella di insuffare Prodotto All'interno Di questa Intercapedine I materiali utilizzati Sono svariati Sono fondamentalmente In fiocchi Sui prodotti naturali O ci sono addirittura Le schiume Poliuretaniche L'intervento Si può fare Sia dall'interno Dell'abitazione Che dall'interno Dell'esterno Dell'edificio Consiste fondamentalmente In carotaggi Generalmente Di 4 cm Di diametro Dove con una manichetta E con un tubo Collegato ad una macchina Viene iniettato Il materiale All'interno Dell'intercapedine In quel momento È liquido Dipende Dall'interno Di materiale Che viene utilizzato I principali materiali Utilizzati Negli ultimi anni Sono generalmente Prodotti naturali Fatti a fiocchi Dalla cellulosa Quindi arriva già Entra dentro Già definito Entra direttamente Nell'intercapedine La macchina È già tarata Per insufflare Il materiale A una determinata densità E si riempie L'intercapedine In questo modo Ecco Questo ovviamente Crea Pochi disagi Anche al condominio Perché insomma Dovete semplicemente Ogni tanto Fare questo buco Come a 4 cm Una robetta così Che chiuderete Ovviamente A regola d'arte Sigillato E stucato Come si sceglie Il materiale Da insuffrare È solo una questione Di costi Oppure Ci sono anche Altri motivi Per scegliere Un materiale Diciamo che fondamentalmente Il materiale Che viene utilizzato È un isolante Quindi tutti i prodotti Isolanti Hanno determinate Caratteristiche tecniche La scelta dell'isolante È fatta proprio Generalmente C'è un termo tecnico Che darà Un'indicazione Del prodotto Da utilizzare Sulla base Di calcoli fatti Per raggiungere Un determinato Rendimento energetico Fondamentalmente La scelta Viene fatta Da Dal tecnico Anche perché Con quelle specifiche Esatto Di cui diceva Rizzi Bisogna stare attenti Di rientrare Al top Cioè nel 75% Allora si può partire Da un prodotto Minimo Che mi dà comunque Essendo comunque Un intervento di ristrutturazione La possibilità di accedere Alla detrazione minima Se io vado ad utilizzare Il prodotto Top Di gamma Aumento Quelle che sono Le prestazioni energetiche Dell'abitazione E a quel punto Posso aumentare Quello che è La possibilità Di detrazione Ecco Ci sono degli inconvenienti Ovviamente Questo si può fare Lo dico Perché molti dicono Perché ci propone Il cappotto Sono delle case In cui l'insufflaggio Non si può fare Le case dove Non c'è Abbastanza intercapedine Per assolvere Quello che fa bisogno Per recupero energetico In quel caso Si va a fare Il cappotto Di cui parleremo Di cui parleremo Dopo Daniela Molino Posso aggiungere Solo un'informazione Che i condomini Secondo me interessa Sull'insufflaggio Uno dei servizi Che noi facciamo E diamo insieme All'installazione È il controllo Dei cassonetti L'eventuale chiusura Perché tanti si chiederanno Ma se questo materiale In fiocchi È un materiale secco Che non Non cambia di forma Allora mi entra in casa Mi sporca tutta la casa Allora rassicuro Tutte le donne Che ci stanno Ascoltando Ci voleva una donna Perché io non l'avevo pensato Ma giustamente Non dovranno fare Delle pulizie pazzesche Perché almeno Nel nostro caso Noi organizziamo L'intervento Partendo proprio Dalla furatura Controllando quindi L'intercapedine Tramite videoispezione E poi Fissiamo degli appuntamenti Con i condomini In maniera Ad andare puntualmente Nel singolo appartamento Smontare il cassonetto Controllare che sia chiuso Nell'eventualità Lo sigilliamo In maniera che poi Quando andiamo a riempire Con il materiale La signora Maria Non si trova All'appartamento Impolverato No questo è interessante Per esempio A casa mia Nonostante I doppi vetri Dal cassonetto Passa sempre Perché noi abbiamo L'intercapedine E non è ancora riempito Per cui se uno va a riempire Si crea anche ancora più Tra l'altro Sentivo prima parlare Di possibili Di possibili Grazie al fatto Di questa intercapedine Che se non viene insufflata C'è solo aria Di umidità Che è una cosa Vorrei Uno dei tanti Miti da sfatare Tanti condomini Che hanno cambiato I doppi vetri Ma in quel condominio Non si sono ancora Fatti lavori Di insufflaggio Si lamentano Che hanno la macchia Eccetera eccetera Non sempre sono perdite Del piano di sopra Ma a volte E proprio perché La casa è completamente Sigillata Si crea Un effetto tipo Bicchiere con l'acqua Gelata dentro Per cui c'è Una sorta di condensa E bambino Penso che voi Ne troverete molti Di queste cose Per cui E porta Un sacco di vantaggi Ma ha Una ricaduta Importante Che Non penso rientri Nella Nella detrazione fiscale Ma Mentre che Risparmiamo Energeticamente Abbiamo anche Un altro vantaggio Quello di ridurre il rumore Un miglioramento acustico Allora Tutti i materiali isolanti Normalmente vengono definiti O termici O acustici O termoacustici I materiali Da insufflaggio Rientrano nella categoria Dei termoacustici Ciò significa che Ovviamente Con determinati spessori È possibile Abbattere anche Di elevata gradazione L'indice di rumore Che percepiamo All'interno Delle nostre case Quindi si ottiene Un comfort Non solo a livello Di temperatura Di percezione Dell'umidità Ma anche di percezione Proprio del rumore Quindi ci isoliamo In tutti i sensi Esatto Benissimo Poi dopo Vorrei capire Perché lì ti isoli Verso l'esterno Che è già una bella cosa Poi immagino Che si possa isolare Anche da quello Del piano di sopra Assolutamente Ma lo vediamo Poi dopo Permettimi La signorina Ha fatto una puntualizzazione Dicendo Non so se Non lo dico io Non so se Si è chiaro Che tutto quello Che non raggiunge La qualità Per usufruire Della spesa del 65 Che anche questa È una spesa maggiorata Perché originariamente Era il 55 Essendo comunque Un intervento Di natura condominiale Resta La detrazione del 50% Che non è poco Anche questa Che anche questa È eccezionale Per questo periodo Perché l'origine È il 36% Non ho fatto Una puntualizzazione Il condominio Ci sono i condomini Circa La bontà della spesa La spesa deve trovare Impatto sotto Un profilo fiscale Quindi la famiglia Che spende La famiglia che paga Deve essere Una famiglia Il soggetto A cui viene attribuita La spesa Forse anche solo Un convivente Perché c'è il concetto Di residenza Che è imprescindibile Deve essere un soggetto Che ha redditi Cioè che paga imposte Altrimenti l'impatto Viene perso Insomma è una gioia Che finisce La quarta del mattino Finisce il pomeriggio E che è la tristezza Ecco Senti invece Anche se Non avranno Un grosso impatto In Piemonte Ma I nostri amici sanno Non andiamo in onda Solo su Rete 7 Ma anche su Sky 825 Quindi ci possono seguire Anche persone Dal centro Italia Che sicuramente Sono più interessati A quella parte Di interventi antisismici Sì Il nostro Il nostro è un paese Che più o meno Ha delle percentuali Di rischio Di terremoto Certo L'Italia centrale E qui Sono 5-6 mesi È una scossa Che Non svanisce Perché ogni giorno Ci capita Di leggere Sul telegiornale Di sentire Al telegiornale Che vi sono state Ancora delle ulteriori scosse Bene Qui c'è stata La proroga Al 31 dicembre 2017 Della percentuale minima Dal 36 al 50 Poi il territorio nazionale È mappato In zone di rischio 1, 2, 3 E lo potete leggere Ci sono delle variazioni In aumento E degli aumenti Anche di scadenza Per una certa tipologia Di intervento Che può ridurre Severamente La possibilità Di rischio terremoto Rientrando In determinate fasce Io ho indicato Nelle pagine successive Rischio Zona 1, 2 e 3 Pare di poter dire Che l'Italia centrale È una di quelle zone Che sta peggio Per quanto anche noi A Torino Abbiamo sentito Nelle scorse di terremoto Neanche molto tempo fa No? Finiamo la parte Dei trazioni Con L'acquisto mobile Grandi elettrodomestici Che anche se Il condominio Potrebbe avere Quelli della Portinaia Per dire Ma sicuramente Interessa a tutti Può avere Può avere locali Di sgombero Può avere Delle aree adibite Ad assemblee condominali Il condominio È interessato Forse lo sa poco Perché Avendo Una unità immobiliare Adibita A Portineria Non gli viene Di immaginare Già l'amministratore Ha le sue problematiche A suggerire Una certa tipologia Di spesa Ma comunque Se si affitta Un alloggio condominiale Lo si affitta Per una residenza Stanziale Perché il condominio Ha questa necessità Questo bisogno Vuol dire La legge dice Immobile Grandi elettrodomestici Poi la circolare Dell'agenzia Del ministero Praticamente C'è tutto No? La condizione Da non fare Confusione È che però Ci sia un intervento Per poter usufruire Nella detrazione Per l'acquisto Di elettrodomestici Di grandi elettrodomestici No? Deve esserci stato Un intervento Di natura edilizia Questo Sia nell'ambito Del condominio Sia Per il soggetto Invece Il condomino Che ha fatto Negli interventi Sulla singola unità immobiliare No? Ecco A cascata Deve comprare Deve Intende Usufruire Di questa detrazione Che ha le stesse caratteristiche Dell'originale A dieci anni No? E del 50% Con un massimo Di 10.000 euro Le formalità Sono sempre le stesse Bonifico bancario No? O carta prepagata O carta di credito Relativamente Al bonus mobili Benissimo Abbiamo concluso Questa parte Ma Dopo la pubblicità Parleremo Sempre Di condominio Detrazioni fiscali E altri Compiti Che lo Stato Ha dato Agli amministratori Due minuti Di pubblicità E poi torna Obiettivo condominio Bentornati A Obiettivo condominio Questa sera Stiamo parlando Di agevolazioni Fiscali Per il condominio Le ultime Novità E l'applicazione Di queste agevolazioni Su tutta una serie Di lavori Di manutenzione O di miglioria Del condominio Soprattutto Dell'involucro condominiale Ma anche Di tante altre cose Una parte importante Massimo Panvino Di renovare Dell'involucro condominiale È il tetto Per cui una volta Si interveniva Sul tetto Solo se c'erano Delle Grandi perdite Che a un certo punto I condominio Dell'ultimo piano Dicevano Basta Adesso ce l'ho fatta Eccetera Oggi Non c'è solo Non bagnare L'ultimo piano Ma ci sono anche Dei grossi vantaggi Dal punto di vista Fiscale E di risparmio termico Tu come prima Ci hai detto Quanto può costare Una scala media Hai fatto due calcoli Per dare un'idea Di un tetto moderno Sempre al solito Edificio Con questione È sempre quello È sempre quello Diciamo di nuovo Come è questo edificio Ma vabbè Per dare un ordine Di spesa Parliamo comunque Di rifacimento totale Del tetto Che vuol dire Smontaggio Tenendo solo La grossa orditura Mettendo un tavolato Poi il tessuto Che fa Permettere la circolazione Dell'aria Ma è impermeabile Poi un isolamento Che può essere Anche lì Un pacchetto di 10 cm Con sopra poi Il manto di copertura In tegole Anche lì Poi bisogna sempre vedere Cadiamo intorno Sempre cifre indicative Ecco Intorno ai 200 euro Al metro quadro Comprensivo di ponteggio Ecco Pacchetto finito Pacchetto finito Su questo Su questo Essendoci Intervento In parte Ricade tutto Ricade Nel 75 Sempre se Si garantisce Poi adesso Sentiremo Anche i nostri esperti Comunque Male che vada Il 50 Se va bene Arriviamo fino al 75 Anche in questo caso Non solo Si ha un tetto nuovo Ricordo Una puntata Di due o tre settimane fa In cui abbiamo parlato Di risparmio energetico Gli ingegneri Ci hanno spiegato Quale sia La grande vantaggio Non solo economico Ma di risparmio energetico Negli anni successivi E di comfort Soprattutto per gli ultimi piani Ma un po' per tutti Perché comunque Si sta meglio Più al caldo Perché sappiamo Che gli ultimi piani Se non sono coibentati Un pochettino Un pochettino Gelano Allora Andiamo a vedere Tecnicamente Adesso abbiamo visto Prima l'insufflaggio Laddove Non è possibile Farlo O dove Un tecnico Indichi Che è necessario Fare Un altro intervento C'è il famoso Cappotto Ecco in realtà Che cosa Perché già il cappotto Ti fa capire più o meno Che cosa Di cosa parliamo Ma Tecnicamente Dobbiamo cercare Di capire Che cosa avviene Alla facciata Diciamo che L'insufflaggio Generalmente O dall'interno O dall'esterno Finché c'è intercapedine È sempre fattibile farlo Quello che non Non fa l'insufflaggio È eliminare Quelli che sono I famosi Ponti termici Dove ricollicandoci Anche al discorso Di prima Del serramento E della muffa Non mi va comunque Ad eliminare Perché Sugli spigoli Sulle parti strutturali Esterne Della casa Effettivamente Io non vado A fare un isolamento Quando si tratta Di insufflaggio Un metodo Per esempio È un vostro È un vostro intervento Sì Questo qui è un intervento Di insufflaggio Su un condominio Abbiamo lavorato Dall'esterno Con ponteggio E qui c'è il tubo Sul quale poi passa Il materiale Il materiale Dicevamo Per quello che riguarda Il cappotto Ci consente Di andare Non eliminare Ma ridurre Quasi a zero Quelli che sono I ponti termici Che si vengono a creare Sugli spigoli Del fabbricato Il cappotto Fondamentalmente Consiste Nell'applicare All'esterno Del fabbricato Di nuovo Un isolante In questo caso Anziché In fiocchi O in sfera Come in insufflaggio Stiamo parlando Proprio di pannello Di pannello rigido Le tipologie Di nuovo Sono svariate Dal sintetico Al naturale Dal neopor EPS EPS Alla lana di roccia Alla lana di vetro Ce ne è di svariate Veramente Possibilità Anche qui Ci deve essere Un termotecnico Che decide Attraverso Una diagnosi energetica Quello che dovrebbe essere Il fabbricato E attraverso Quella diagnosi energetica Si va poi a scegliere Il prodotto Da utilizzare E lo spessore Da applicare Il cappotto Fondamentalmente Consiste Dicevamo Nell'applicare Non soltanto L'isolante Alla nostra Facciata Ma Va incollato Tassellato E esternamente Va applicata Poi una rasatura Armata Che è quella Che ci dà Poi la finitura Del nostro Del nostro edificio Ecco Prima abbiamo visto Grazie Alla presenza di spirito Di Daniela Molino Quale poteva essere L'inconveniente Se Voi che siete Che ci avete pensato Andate a isolare Il cassonetto Però Per quanto riguarda Il cappotto Che mi sembra Un po' più invasivo Nel senso Che comunque Vai ad aumentare La facciata Ci possono essere Gli inconvenienti Nel senso Che si va Un po' A modificare Anche Si va A modificare Sicuramente Se uno Se uno ha Le persiane Bisogna Bisogna Tenere conto Che intanto In corrispondenza Di tutti i serramenti Dove abbiamo Soglie E imbotti Tutti quegli elementi Devono essere cambiati Perché se io aumento Di spessore La mia facciata In automatico Devo andare a modificare Anche tutti quelli Che sono i prolungamenti Di facciata Quindi dovrò spostare Se ho le gelosie Tutte le gelosie Là dove ci sono Comunque cassonetti Con taparella Dovrò rifarmi Tutti i rivestimenti Ci sono tutta una serie Di cose da cambiare Compresa poi anche La faldalleria Quello che sono Tutti i pruviali Le discese Del fabbricato Però in compenso Una volta che abbiamo E siamo entrati Nell'ottica Di fare questo lavoro Magari anche Come dire Agevolati Da questo 75% Di trazione C'è un grande vantaggio Poi interno Non solo Di sensazione Di calore E di non quel gelo Perché io Personalmente Per esempio In ufficio Ho una parete Sposta direttamente All'esterno L'ho coibentata E ti cambia la vita Non hai più Quella sensazione Di gelo Anche Per cui Sicuramente È un ottimo intervento Possiamo dare Di quanto cresce A parità Di riscaldamento Il comfort Due o tre gradi All'interno Diciamo che Due o tre gradi Li recuperiamo Poi a seconda Della tipologia Di materiale Che utilizziamo Quei due o tre gradi Possono essere Anche di più Ovvio Solo per capire Quei condomini Perché me lo chiedono Il tuo tre gradi Vuol dire che Se noi siamo abituati A vivere a 22 gradi Senza cappotto Noi Se continuassimo A tenere I termosifoni Uguali a prima Ne avremmo 25-26 Con il cappotto Che vuol dire Che noi Abbassiamo i termosifoni Torniamo a 22 Ma risparmiamo Sul riscaldamento Di conseguenza Perché non dovremo Più avere I termosifoni Bollenti Per riscaldare Il nostro Appartamento Non beneficiamo Soltanto nel periodo Invernale Ma a seconda Del materiale Che utilizziamo Possiamo beneficiare Del cappotto Anche nel periodo Estivo Ovvero Se utilizziamo Prodotti Naturali Hanno la capacità Di riparare Non soltanto dal freddo Ma anche dal caldo Quindi ci sono prodotti Come lana di roccia O fibra di legno Che avendo più massa Riescono a trattenere Il calore Verso l'esterno Per un tot di ore Quindi Il comfort diventa Non soltanto Nel periodo invernale Ma anche nel periodo estivo Penso a quegli alloggi Esposti a sud Che sono bellissimi Pieni di luce Ma a luglio e agosto Hanno il sole dentro Per cui quello isola E quindi useremo Anche meno I condizioni a nottore Quindi avremo Di nuovo Non è solo quello Di isolare Di ridurre Il risparmio energetico Ma di ridurre In consumi In genere Ecco Daniela Molino Anche Prima ho detto Di insufflaggio Anche questi materiali Sono ovviamente Termoacustici Non tutti Allora Andiamo da prodotti Intanto Quello che isola dal calore E anche acustico Cioè riusciamo ad avere tutto Un prodotto Che fa tutto Bisogna solo Ed è per questo Che noi normalmente Lavoriamo Andando Dal cliente Facendo dei sopralluoghi Proprio per capire Qual è la problematica Effettiva Intanto vorrei aggiungere Che anche con l'insufflaggio Riusciamo a lavorare Sia sul principio Del riscaldamento Che del condizionamento Quindi entrambi Fibra di legno Fibra di legno A base di prodotti A base di tecnologie specifiche Anche con un centimetro Possiamo ottenere Dei risultati In termini termici Molto validi Qui però Stagliamo ovviamente Di categorie di prezzo Però dal punto di vista Di un cappotto Andiamo a beneficiarne Perché vuol dire Con un centimetro di spessore Non dover cambiare I davanzali Non dover magari Spostare le gelosie Quindi con una serie Di risparmi Su altri interventi Quindi abbiamo veramente Tutte le possibilità Nicola Rizzi Nostro commercialista Abbiamo visto Le detrazioni fiscali Riguarda sempre Le detrazioni fiscali Un nuovo onere Possiamo dire Dato agli amministratori Quest'anno Quest'anno È toccato a voi È toccato agli amministratori L'anno scorso È toccato ai medici Il governo Renzi Due anni fa Ha introdotto Il 730 Precompilato Sarebbe la dichiarazione Dei redditi Modello 730 Ma non è così Anche l'altra Dichiarazione dei redditi Non è precompilata Ma fornisce Le stesse notizie L'obiettivo Del ministero Era quello di Ridurre i costi Del contribuente Al momento Di sostenere L'adempimento Della dichiarazione Dei redditi E ridurre La percentuale Di errore Mettere a disposizione Una parte Di dati Che l'amministrazione Conosce già I contratti di affitto La montare Il canone Li conosce già Questi contratti L'opzione per la cedolare secca La conosce già E allora Ha messo a disposizione Gli oneri detraibili E gli oneri deducibili Gli interessi passivi Le spese mediche I contributi pagati I contributi della colf Le spese funerarie Le spese scolastiche Ha recepito I dati Che aveva già Perché il contribuente Li aveva indicati Negli anni precedenti Perché come Abbiamo detto prima La distrazione Si spalma in dieci anni No? E in qualche caso Anche in cinque Da quando è stata Istituita la norma Passata da cinque Poi abbiamo avuto Anche i pensionati Che hanno beneficiato Di un periodo minore Oggi no I dieci anni per tutti No? Quindi L'amministrazione conosce Già le spese Indicate negli anni precedenti Da quest'anno Le vuole conoscere Non sulla base Della indicazione Del contribuente Ma le vuole conoscere Dall'amministratore condominiale Le vuole conoscere Dal condominio Perché l'amministratore condominiale È un facente di funzione No? È un amministratore È un rappresentante Del bene comune E questo Si unisce A un altro adempimento Che è stato forse Leggermente marginalizzato Se vogliamo Per certi versi Da parte del condomino Non da parte Dall'amministratore Non perché Qui ci si è chiuso Che per amministratore Ma perché Io so per certo Che quando C'è stata la legge di riforma Entrata in vigore Nel giugno 2013 Voi vi siete adoperati Per istituire Il registro Della anagrafe condominiale Ma anche per riempirlo Di date Evidentemente Perché come la parola Semplice Lascia intendere Anagrafe condominiale Quindi Con la disposizione Del primo dicembre Dell'anno scorso Che non è che però Deve cogliere i preparati Perché la legge Che ha previsto 730 per compilato Ha disciplinato Ha individuato Anche tutti i soggetti Che sono tenuti A comunicare le spese A comunicare I dati L'anno scorso Come ripeto Ci sono stati medici Che mi pare di poter dire Per i medici clienti Che ho io Che non hanno presa molto bene No Quindi Ma neanche gli amministratori Gli amministratori Non solo non l'hanno presa bene Ma sono leggermente Infuriati Infuriati No Se qualcuno pensava Avrei detto un altro termine Si sbaglia Perché Allora Cosa deve fare l'amministratore Deve riempire un modulo Enorme Un po' Va in difficoltà Va in difficoltà Su alcuni dati Che però l'amministrazione Gli chiede Sarebbero Gli aventi diritto La casa di chi è A chi è intestata Il subalterno La particella Il foglio E chi è Che ha diritto Il codice fiscale E qui Si va un po' in difficoltà Perché chi è Che ha diritto Cioè la casa È di lui Ma in effetti Ha pagato la moglie Ma in effetti C'è anche il figlio Adesso Dall'anno scorso Abbiamo anche la legge Cirinà E quindi anche il convivente Gli ultimi decreti Sono stati emanati I tre decreti attuativi Anche il convivente Anche il convivente Sì esatto E allora in questi In questi giorni qui Siamo in difficoltà Cioè peggio della CIA Però sta cosa Scusate No ma perché È un dato complesso Questo qui da indicare E quindi voi avete iniziato A procurarvi queste notizie Che tre anni fa Non mi sono state date Con quella solerzia Con quella precisione Ecco quindi Sintetizzando per i condomini Molto probabilmente Avrete o state ricevendo Se non l'avete ancora ricevuto Una lettera Una comunicazione Via mail Del vostro amministratore Che vi chiede alcuni dati Che probabilmente mancano No perché Magari qualcuno Il foglio dell'anagrafe Non gli ha dato L'importanza che doveva Perché questo Ti tolgo un attimo Una parola È di assoluto interesse Del condomino stesso Perché Se intende Dedurre Detrarre Deve sapere Se l'amministratore Gli dà un dato sbagliato Va in conflitto Con quello che è poi L'effettivo beneficiario Quindi Non si fa un favore a nessuno Si fa Un bene comune Ecco scusati Il problema è che Quando Gli amministratori Hanno Mandato il foglio Dell'anagrafe condominiale Nessuno immaginava Magari Voi sì Voi come Non si immaginava Che poi Quei dati Sarebbero stati Molto utili Perché Andavano a finire Indispensabili Anzi Indispensabili Quindi Se vi vedete Arrivare Queste richieste Non sono Come dire Paturnia Dell'amministratore Ma L'amministratore Deve assolutamente Entro il 28 febbraio Sì esatto Ci sarà un po' di tolleranza Perché La legge prevede Che in sede In sede Di prima attuazione No Parole povere La prima volta che Sono consentiti Lievi ritardi E lievi errori E poi C'è un seguito Che dice A condizione Che non si crei In documento Non si crei Danno Al beneficiario Quindi Quest'anno Per esempio C'è già stata Una disposizione Che ha previsto Nove giorni in più Per la trasmissione Delle spese mediche Quindi siamo arrivati Al 9 marzo Questa chi è che Si è inventata Renzi No no Non facciamo politica Per dare dei meriti No Per dare dei meriti Va bene Sì Il senso Precompilato E dell'anno 2015 È stata È stata Un'iniziativa Che ha sorpreso tutti Ha sorpreso tutti Immagino Poi gli amministratori Sono rimasti Anche noi Anche i commercialisti Torniamo Alle nostre Istitulazioni Massimo Pambino Allora abbiamo visto Il tetto Chi non potesse Come dire Non volesse Fare una ristrutturazione Del tetto Completa Eccetera Eccetera Se non ci sono Le soffitte Le soffitte private Ma abbiamo Un sottotetto Libero Diciamo Inutilizzato Ci sono C'è anche Un metodo Più economico Per Per isolare Il sottotetto Senza andare A toccare il tetto Che ha un costo Decisamente Elevato Si possono Comimentare I pavimenti Delle soffitte Ecco Anche lì bisogna vedere Se sono avvolta O piane Se sono avvolta Io parlo sempre Della parte più economica Come spesa Si possono Stendere Dei materassini Di Di lana di rocce Imbustate Doppio strato Incrociati Per alleviare Un po' Queste sofferenze Chiaramente Il tetto Rifatto Con il suo bel Pacchetto È meglio Però C'è anche Dai sui benefici Diciamo Ecco O eventualmente Se il tetto Se la soffitta È piana Si possono usare Anche dei pacchetti Di Di pannelli Tipo Poliretano Ecco Poi passiamo A quei condomini Dove magari Molti condomini Dei piani Intermedi Non sono tanto Spinti a fare Questo tipo Di Interventi E c'è Come me Chi abita All'ultimo piano Il mio condomino Non ha rifiutato Di fare qualsiasi Intervento Di quelli che hai detto Tu Io che cosa Posso fare In casa Per isolare A livello soffitto Ti puoi creare Un conto soffitto Con dell'isolante E già E ti proteggi E già E proteggi Ecco che L'hai lanciata L'hai lanciata Contro soffitti Voi fate Contro soffitti Assolutamente Penso che facciate Sia quelli Più normali Così Ma anche Quelli isolati Assolutamente Allora Prima di tutto Una cosa base Se uno avesse L'intenzione Di fare un intervento Del genere All'altezza Sì Perché se in casa Abbiamo già i 270 Poco si può fare Perché noi Andiamo a abbassarci Di una media Di un 10 cm Se invece Le altezze ci sono Si fa questo Ribassamento Che prevede una struttura Metallica A cui viene ancorato Il cartongesso Nello spazio Tra il solaio E il cartongesso Si può fare Veramente di tutto Quindi Il termico L'acustico E il termoacustico E anche qui Abbiamo pannelli Molto leggeri Più pesanti Con masse Senza masse C'è veramente Un mondo Che può avere La stessa resa Che metterli Sul tetto Similare È ovvio Che se noi Andiamo a lavorare Su una soletta Al di sopra Noi andiamo a togliere Per la termica Ogni ponte termico Se lavoriamo da sotto Arriviamo fino Alla fine Del nostro tramezzo Quindi Andiamo a fare Un lavoro Diciamo ristretto Al nostro alloggio E quindi Di cui gli altri Non riescono a gevolare Non riescono a gevolare Certo Però è una soluzione Tipo per me È una soluzione Perché se il condominio Non vuole Non vuole Invece Quelle belle cose Che hai portato Ce le descrivi Così facciamo vedere Anche un po' di esempi Allora Questi qui sono Due tipologie Di capotto Con prodotti diversi Come dicevamo prima Si passa dal Dal sintetico Al naturale In questo caso Questo campione È un campione Di Neopor Che fondamentalmente È lo standard Del capotto Che viene fatto Oggigiorno Con i suoi vari strati Di rasatura Come dicevamo Rasatura armata Questo tra l'altro È un prodotto particolare Perché Generalmente I prodotti sintetici Non sono prodotti Altamente traspiranti In questo caso Sono stati fatti Dei fori Sul retro del pannello Proprio per far sì Che anche il pannello sintetico Possa essere un prodotto traspirante L'alternativa Al sintetico Che dicevamo Ci difende soltanto Dal freddo È il pannello Con un prodotto naturale In questo caso È una lana di roccia La lana di roccia Come dicevamo Ha un potere Isolante per il freddo Isolante per il caldo E isolante anche acusticamente Il trattamento Fondamentalmente È lo stesso La rasatura armata È la medesima Del prodotto sintetico I naturali Di per sé Sono comunque Dei prodotti Che sono Altamente traspiranti E questa era L'altra tipologia Di isolamento Che si può fare Sia su cappotto Sia su piano piloti Finiamo con Nicola Rizzi Abbiamo ancora Un paio di minuti Lo so che Parliamo di contratti Di locazione Con cedolare secca E se riesce anche Di questa cosa De la rottamazione Le cartelle Con lo scopo Di ottimizzare Di far emergere Anche Il cosiddetto Nero Nell'ambito Della contrattazione Dei contratti di locazione Ormai da qualche anno Nel 2011 Esiste un regime Parallelo di tassazione Che è inferiore Alla tassazione ordinaria La prima aliquota È il 21% Si chiama Cellulare secca Non lo so perché Ma nella circolare È scritto così Perché di secco Non c'è C'è sempre un flusso Economico Da sostenere Evidentemente C'è un'ulteriore Riduzione Perché il 21% Come ho detto La prima aliquota fiscale È il 23% Si scende al 10% Fino al tutto Il 31 dicembre 2017 I contratti Evidentemente Possono preesistere Ma i canoni Sono quelli Esistenti Fino al 31 dicembre 2017 Per i contratti Cosiddetti agevolati Sono contratti agevolati Quelli fatti Sulla base Del contratto Tipo Di durata E di canone Delle maggiori organizzazioni Per avere la capienza Cioè se ho le spese mediche Degli interessi passivi Dei familiari a carico E via discorrendo Non mi conviene L'accedurare secca Perché? Perché queste detrazioni fiscali Per i motivi che ho detto Mi fanno Riducono l'imposta da pagare Quindi la scelta Non deve essere Di entusiasmo Solamente con la comparazione Delle due percentuali 21 e 23 Ma è una scelta Ponderata Ok E la rottamazione Delle cartelle Chi l'ha fatta La rottamazione Cosa l'ha fatta? Chi l'ha fatta? Chi l'ha inventata? Chi l'ha inventata? Renzi No C'è la parola stessa Ma non è mica un difetto Dunque Equitalia non c'è più Da luglio viene E lì molti hanno stampato bottiglie Esatto No, questo non è così Equitalia non c'è più Viene assorbita Dall'agenzia delle trate Quindi si accorcia la filiera Track Ecco Ci saranno poi Delle conseguenze Anche a livello di lavoratori No Che cos'è la rottamazione? Non è una rottamazione È una riduzione La riduzione di cosa? Si possono pagare I debiti Di natura erariale E anche di altra natura Comunale Ma adesso qui faccio un inciso No Se i comuni deliberano Con la riduzione Delle sanzioni E degli interessi moratori La sanzione Perché alla scadenza originaria Non ho pagato No E gli interessi moratori Perché alla scadenza Della scadenza Non ho pagato Quindi io dovevo pagare La cartella esattuale Non l'ho pagato O degli interessi moratori Sono Equitalia Quindi esattuali comunali Non si chiamano più Si chiamano Equitalia Ma possono aderire Anche i comuni Il comune di Torino E notizia di Avantieri La sindaca Appendino Ha deciso di non aderire Alla rotamazione Allo sconto Dei tributi comunali Soris Soris non aderisce Qualche termine Si fa un'istanza Al 31 del mese di marzo E si ricevono le risposte Benissimo Questa dell'Appendino Poi la approfondiremo Perché non faccio commenti politici Perché non è Quell'altra trasmissione Che conducevo Per cui saluto Tutti i nostri telespettatori Obiettivo condominio Appuntamento La prossima settimana Parleremo di impianti Ascensori Esistenti e nuovi Guardate la trasmissione Partecipate Se proprio non potete Almeno date la delega Importanti benefici fiscali Al condominio E ai condomini Per interventi Di natura edilizia E di risparmio energetico La sicurezza Nel condominio È fondamentale Bisogna far scegliere Con cura La ditta che esegui Lavorismo e l'attenzione Ordinarie e sordinarie Al condominio È sempre più importante Curare la bellezza della casa Per poterla vendere al meglio Bisogna stare molto attenti Nella scelta di un amministratore Cercheremo di aiutarvi A capire come sopravvivere Nella giungla del condominio